E se mi fermo ad ascoltare, potrei giurare di sentire ancora il baccano dei simposi. Volete vederla la Sicilia? Seguite la mia voce, venite gente, avanti, non abbiate paura. Io sì che merito l'entusiasmo della gente, tutti ne vanno pazzi, anche voi, però di più o meno, eutromio, eutimide, frinzia, i famosi artigiani atenisi di notevole livello. Un amè. Un amè. Un amè. Grazie. Le fondamenta, propizia a me, dimostravi tre volte delle suppliche rinvocata. Demetra potente tra le dè, dèa madre di tutto. Delle erbe aromatiche, le coltivo io stessa, nell'ortus, è vero sabatina? Sì! Lo prego, lo prego, non intimiditevi dell'artigiano che lo ha realizzato. Questo mosaico è stato realizzato nel secondo secolo a.C. Grazie a tutti. Dove sono finiti gli dèi? Ci hanno abbandonato per un sogno più degno. DATEMI! Teois, cataprio mio, istiois. Teois, cataprio mio, istiois. Si legate. Teois, cataprio, istiois. Il mio amato, fedele compagno. TITILIUS! TITILIUS! Un tesoro che viene dal passato appartiene a tutti. Il segreto è tutto qui. TITILIUS! 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 Grazie a tutti.